Nuovo, è vero. Letta, Enrico Letta. Allora, Letta, sicuramente, l'aspetto secondo me più positivo è stata la composizione delle liste, perché a differenza di Veltroni, mi spiace dirlo, qui abbiamo un'eccezione, però lui veramente ha tentato di aprire le liste agli anni da 40. Veltroni è comedi con la scalfa e la tobbia. Ecco, Veltroni l'ha detto, ma poi diciamo l'ha fatto molto meno. Insomma, non è, ci sono molti giovani in liste di Veltroni, non lo dico solo per spirito di parte. Però meno di quello che si poteva fare, cioè tu sei candidato in una lista che doveva essere dedicata ai giovani, di fatto non è dedicata ai giovani. Beh, 50% dei candidati sono giovani però. Sì, però c'è Cesare Damiano, Treo, Amato, cioè è diventata una lista che contiene non solo giovani. 50%, però 50%, beh, solo giovani non passava il rischio che non passasse anche uno. No, però visto che c'erano tre liste a sostegno di Veltroni, una, esclusivamente, dedicata ai giovani, sarebbe stato un bel segno. Poi Cesare Damiano è molto giovane. Come? Cesare Damiano, il ministro, è giovanissimo. Certo, no, ma non è che essere giovane è una virtù. Invece un difetto di letta? Il difetto di letta... Quindi... Allora... Allora...